Grazie per l'invito. Allora, intanto credo che sia importante una prima distinzione tra il mondo consumer, il mondo dei consumatori e il mondo delle aziende, che peraltro è anche il mondo che noi come Infracom tendenzialmente indirizziamo. Allora, non c'è dubbio che per il mondo del consumer, quando parliamo di accesso e di contenuti, in particolare per l'accesso, è importante garantire l'uguaglianza e l'accesso alla neutralità della rete e, dall'altra parte, limitare quello che è disponibile per i clienti, usare le correnti limitazioni che sono andare su best effort fondamentalmente. Altra cosa è quando andiamo nel mondo delle aziende e più in particolare quando noi ci stiamo muovendo di contenuti che progressivamente si evolveranno verso il cloud computing, dove effettivamente cambia, è il vero driver del cambiamento. Qui abbiamo sentito un dibattito particolarmente vivo e secondo me molto stimolante, quando si cominciava a parlare di neutralità della rete, protezione dei dati, neutralità delle app che girano sulla rete e quelle mi sono sembrate affermazioni particolarmente importanti. Per chi lavora nel mondo delle aziende è importante e soprattutto come driver di cambiamento utilizzare il cloud computing, dove alcune caratteristiche sono assolutamente fondamentali. Allora lì la mia sensazione è che effettivamente c'è qualcosa di diverso che deve essere regolamentato, c'è qualcosa di diverso che deve essere indirizzato. Oggi le aziende hanno la necessità di poter usufruire non di best effort ma di avere qualità garantita, hanno necessità di poter priorizzare certi contenuti perché magari su quei contenuti girano degli applicativi che sono mission critical per l'azienda, hanno necessità di avere la sicurezza dei dati, hanno necessità di avere tutte queste caratteristiche gestite nella maniera appropriata perché è lì che girano i loro dati fondamentali. A quel punto la mia preoccupazione è riuscire a garantire a questi interlocutori che queste caratteristiche siano preservate e siano disponibili per chi vuole priorizzare il proprio traffico, per chi vuole poter far girare tranquillamente sulla propria rete o sulla rete applicazioni in cloud dove magari ci gira tutta la mia azienda. Lì caratteristica fondamentale oggi difficilmente raggiungibile è la bassa latenza di rete e la necessità di poter usufruire anche localmente perché oggi la latenza dipende molto dalla distanza e dipende molto da quello che io metto sulla parte di rete e quindi sarà fondamentale a mio avviso avere la capacità di poter usufruire di queste caratteristiche localmente perché ha voglia di parlare di cloud computing, remoto eccetera, quando in realtà la latenza che mi occorre per certi applicativi è una latenza che io riesco a raggiungere solamente se giro local to local fondamentalmente. Ecco che a quel punto la nuova generazione, quello che noi saremmo chiamati a garantire ai nostri clienti, sono proprio queste caratteristiche, caratteristiche che a mio avviso differenziano molto le reti di nuova generazione che saranno disponibili per il mondo delle aziende dalle reti di nuova generazione che abbiamo l'obbligo di mettere a disposizione per il mondo del consumo. Ecco quella secondo me è una distinzione che andrebbe fatta in ogni momento che è importante che noi teniamo sempre presente.